Buonasera, eccoci, buonasera a tutti, benvenuti in questa diretta, è un po' che non ci si vede, che non ci sono e quindi sono molto contenta di essere qui questa sera con voi e con il mondo dello spirito, anche se con loro sono diciamo spesso in diretta, in connessione. Allora, che si è collegata, ciao, benvenuta, ciao Sara, fa molto caldo qui a Roma, credo che ormai un po' dappertutto faccia caldo, è la stagione, siamo praticamente in piena estate. Grazie Caetano per l'ospitalità come sempre, grazie. Ciao Maria, ciao Maria, sono stata a Bari l'altra settimana e vi ho pensato a te e ad Agnese e ho ringraziato anche voi perché insomma a Bari è la vostra terra e quindi bisogna sempre chiedere il permesso quando si va fuori zona. Buonasera Alessandra, ciao Agnese, Anna, Antonella, buonasera a tutti. Mi prendo qualche minuto, vi saluto così arrivano un po' di persone e poi cominciamo subito. Ciao Arianna, ciao Laura, buonasera a tutto il gruppo, sì sì, buonasera a tutti, tutti, tutti quanti voi. Spero che voi stiate bene, io sto bene, lavoriamo tanto. Gabriella, ciao Gabriella, Gabriella, parapsicologa, diplomata, ciao Gabriella, Katia, Katia, buonasera, buonasera Katia, grazie. Siete carissime anche voi per me e per l'universo, ognuno di noi è unico, è unico, e punto. Ciao Mirella, ciao, benvenuta, benvenuta a tutti. Allora, Stefania, ciao, c'è anche la mia sorellina mi sembra, da qualche parte forse l'ho vista, buonasera Stefania, anche mia sorella si chiama Stefania. Allora, io direi che possiamo, possiamo anche iniziare perché loro sicuramente sono già qui pronti per portare i loro messaggi a voi che state seguendo. Allora, Sara, è la prima volta che ti vedo, buona diretta. Grazie Sara, grazie mille, grazie. Ciao Rosy, ciao Stefania, sì, eccola, Simona, Emanuela. Ciao Emanuela, noi ci vediamo domani. Allora, per chi si è collegato oggi con, per la prima volta con le mie dirette, io faccio contatti medianici, cosa vuol dire? Dimostrazione pubblica di medianità, mi collego con il mondo spirituale, il mondo dove vivono la dimensione, dove vivono i nostri trapassati e chiedo di far arrivare qualcuno per voi, per voi soltanto che state seguendo la ridetta diretta, finché possano essere riconosciuti. Però non sono io che chiamo nello specifico per qualcuno di voi. Loro arrivano e basta. Io appena sento che arriva il nostro primo ospite, il nostro primo spirito, vi parlerò di lui, delle evidenze che mi porta e poi quando c'è qualcuno tra di voi che può riconoscerlo, può scrivere nella chat. Va bene? Ciao Donatella, ciao Flo, Marianna, Marianna, Germana, Matteo. Allora, possiamo iniziare. Io vi chiedo di mettere tutto il vostro intento nella richiesta, ok? Che farete ai vostri cari, di farli arrivare qui per voi. Io manderò il mio amore. L'amore è la chiave, diciamo, di accesso a quella dimensione. Sia per noi medium, perché senza amore non entriamo. Loro sono luce e sono amore e quindi la frequenza è quella che riconoscono e ci aprono le porte. Questo vale anche per voi. Quindi espandete la vostra luce, il vostro amore in quella dimensione. Io farò la stessa cosa, creerò questo cerchio bellissimo tra di noi e poi vediamo chi arriva. Mi prendo un minuto e sono di nuovo qui con voi. Bene, allora abbiamo già qui la nostra prima ospite. Sento che sto parlando con un'energia femminile e sento che ha un'anima giovane, uno spirito giovane che è trapassato giovane. Sento che sto parlando con una ragazza che è trapassata intorno ai 25 anni, tra i 25 e i 28. Quindi questi due numeri che mi arrivano, che lei mi fa sentire, potrebbe essere 25. Allora sento che lei è trapassata a causa di una malattia. Una malattia che non è riuscita, non sono riusciti a capire, come se la terapia non era quella giusta per il tipo di malattia che lei aveva. Quando mi fanno sentire questo tipo di malattia, credo che sia una malattia un po' particolare, quasi come se non avessero trovato ancora una cura specifica per questo tipo di malattia. Lei mi fa sentire, forse che si è ammalata a 25 e è trapassata a 28. Comunque l'età in cui è trapassata è questa. Sento una ragazza con un carattere molto vitale, piena di energia, anche se nella sua totalità in realtà era un po' timida, un po' riservata più che timida, ma piena di vita, piena di voglia di fare. Lei fino all'ultimo ha chiesto di poter guarire e comunque non si è mai lasciata andare, non ha mai avuto una mancanza, non è mai stata triste, soprattutto con i genitori. Sento che questa ragazza mi fa vedere il suo aspetto fisico e vuole che ne parli. È una ragazza con i capelli molto voluminosi, lei ci teneva tanto alla cura dei suoi capelli, usava tante creme, tanti prodotti per i capelli, forse perché erano anche un po' ribelli, mi fa sentire. Sento che lei ha lasciato anche un fratello, perché non la sento, sento che non era figlia unica, ma con lei sento un fratello più piccolo, sì, percepisco una presenza in famiglia, un fratello e una sorella, ma più piccolo di lei. Sento che lei era molto... allora, innanzitutto stava continuando gli studi per quanto le era possibile, quindi non aveva un lavoro, si spesava con dei piccoli lavori, ma mi fa sentire che aveva proseguito con l'università. Molto legata ai genitori, un rapporto particolare con il padre. Adesso non entro nei dettagli, però perché vorrei prima sentire e leggere un attimo nella chat se c'è qualcuno che può riconoscere questa ragazza, va bene? Un momentino. Allora, se qualcuno può riconoscere questa ragazza o se può essere la figlia di una vostra amica, ok? Però con queste evidenze, così come le ha portate... Ciao Veronica, buonasera a tutti. Vado avanti, chiedo magari se si può fare un riepilogo delle evidenze, quindi sento che ho una ragazza che è trapassata intorno ai 25 anni, 25-28, una malattia particolare, non si è riuscita a trovare la cura specifica. La sento molto dinamica, molto socievole, un po' riservata. Sento che nella famiglia c'era un fratellino e una sorellina più piccolo, anche se sento più maschio. Ok? Allora, grazie Sara per il riepilogo. Veronica, io riconosco. Allora Veronica, mi puoi dire... Allora, tu riconosci questa ragazza così come si è presentata con tutte le sue particolarità? Nel frattempo io... Ciao Alessandro. E nel frattempo io cerco di mantenere il contatto con lei, mi faccio raccontare anche altre cose. Allora, io sento che a lei piaceva molto la musica e soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita la musica l'ha accompagnata molto perché ci sono stati dei momenti che si è trovata a passare del tempo da sola, forse magari per il ricovero. Però sento una passione per la musica e anche qualcosa che ha a che fare con la danza. Quindi sì, con la danza anche. Allora, buonasera Ivana. Allora Veronica, il fratellino no. Fratellino o sorella? Comunque non era figlia unica. Sento che c'è una presenza in famiglia, diciamo, a cui lei teneva molto. Ecco, a cui lei teneva molto. Sento... Allora, sento anche... Lei mi fa vedere un simbolo. Voi sapete che a volte loro ci fanno vedere dei simboli che possono essere poi riconosciuti. Mi manda un simbolo che è una stella. In realtà questo simbolo potrebbe essere un modo come veniva chiamata o qualcosa che comunque la può far riconoscere. Una stella. Una stella. La sento... Allora, vediamo. La sento... Allora... Allora, Veronica, non ricovero però a morte improvvisa. Allora, Veronica, la ragazza era malata, aveva una malattia già da tempo, quindi se puoi riconoscere la malattia. Perché non sento che è trapassata di morte improvvisa, ma sento che c'è stato un periodo di malattia. Un periodo di malattia per questa ragazza, perché sento e mi fa sentire anche l'odore dell'ospedale. Va bene? Stavo dicendo, mi fa vedere il luogo dove abitava e sento che lei abitava in un centro vicino alla sua casa. Mi fa sentire il rumore delle campane, quindi probabilmente vicino alla sua casa c'era una chiesa o una basilica. Comunque sento il suono delle campane, ma è proprio il classico suono delle campane, diciamo, della chiesa. Va bene? Ok. Vediamo se cos'altro mi fa sentire. La sento, mi fa sentire gli odori dei fiori, quindi sento questo odore che a lei, diciamo, piaceva comunque l'odore della fragranza dei fiori. Quindi potrei pensare che era proprio piaceva il profumo dei fiori, le piaceva ricevere magari i fiori, mi fa sentire questo odore. O magari c'è qualcuno qui della famiglia che era amante dei fiori che proprio anche li curava, li coltivava, sai quei vasi, quelle piante, ecco. Buonasera a tutti i fiori che non sono i fiori che hanno mai avanti, io ho qui una ragazza di circa 25 anni, socievole ma riservata, leggo un po' quello che ha scritto Katia, grazie. Sento un fratello più piccolo, in realtà sì, sento questa presenza in famiglia molto importante per lei e mi dà come se fosse un fratello. Studentessa andata via per malattia, amante della musica e danza, camelli monoluminosi. Sì, aveva questi capelli molto veluminosi che a lei ci teneva molto, quindi mi fa vedere che li curava moltissimo. Ok, grazie Katia, quindi ci pensi tu a fare il riepilogo, grazie tantissimo. Allora, aspetto un momentino se c'è qualcuno che può riconoscere questa ragazza. Io vi chiedo di pensare anche alle vostre amicizie, perché loro arrivano se c'è qualcuno che può riconoscerle nel gruppo e che eventualmente può portare il messaggio. Ok, aspetto un minutino, io ho sempre qui questa ragazza, amava vestirsi bene, ok? Ci teneva molto al vestire, ecco, era sempre molto ordinata. Allora, Claudia mi scrive, ciao, io conoscevo una ragazza che è morta di una malattia, aveva un fratello e lei si chiamava Michela. Ok, Claudia, puoi riconoscere tutte le evidenze di questa ragazza? E poi aspetto se c'è qualcun altro, perché in base alle evidenze ovviamente noi per esclusione la riconosciamo, va bene? Allora, Anna, potrebbe essere mia figlia, ma il fratello è più grande. Anna, ascolta Anna, tutto quello che ha raccontato tua figlia fino adesso, ti può tornare anche la musica, la danza, l'età del trapasso. Amava vestirsi bene, si, adorava i profumi, ok? Anna, penso anche io che sia tua figlia, ok? Allora, Anna, ascolta, anche il posto, tutto quello che ho, ok, trapassata 25 anni, ok, sì, ok. Anna, posso chiederti una cosa, quanto tempo è che è trapassata tua figlia, che è nel mondo spirituale, da piccola danzava, ok, ok, sì, perché sento che piaceva molto la danza, ecco, era tra le evidenze più importanti che lei ha portato per farsi riconoscere, per farsi riconoscere. 16 mesi, ok, ascolta Anna, tu puoi capire la stella? Allora, io credo che sono, credo che sono con te perché percepisco la sua energia da figlia, ok, quindi credo che sono con te e credo che tu abbia mandato un messaggio alla tua figlia, a tua figlia, chiedendogli una, come se l'avessi sfidata, ok? Perché lei mi dice, mia mamma mi ha sfidato, mi ha detto, voglio, voglio che tu mi dia delle risposte. Allora, sì, la stella è un simbolo che ci accomuna, bene Anna. Allora Anna, tua figlia è qui, voglio dirti anche come è arrivata, perché lei è arrivata molto serena, molto leggera, ok? È come se si fosse finalmente liberata di un fardello che arrivava dalla terra, ok? Tu puoi capire se lei si sente di essere stata riconosciuta da te, finalmente, come se avete creato un'unione e che tu anche in sfida l'hai messa con questa diretta, come se l'avessi proprio sfidata e dire se sei veramente tu, se è successo veramente questo, fatti dammi un segno, magari manifestandosi. Puoi capire questo, Anna, può essere successo? Perché questo è quello che mi sta raccontando, come se avesse colto la sfida. Io sento che questo rapporto, Anna, è un rapporto bellissimo, perché lei mi fa sentire proprio la sincronicità e l'empatia con te. Quindi il mondo spirituale, il mondo terreno, tra voi due si sono entrati in connessione e avete trovato la vostra frequenza. Anna, sì, ma non l'ho sfidata. Sì, sfidata è un modo per dire dai, fatti sentire, ecco, un po' questo. E lei è accolto, diciamo, questa tua richiesta, ok? Infatti sto sorridendo perché lei sorride. Allora, Anna, lei è con te tutti i giorni. Ha trovato la sua voce, ha portato la sua voce attraverso di te. Spero che tu possa capire il significato di questa cosa così come me la sta facendo sentire, perché mi fa sentire la voce. E il vostro rapporto è di nuovo unito. Allora, io la trovo in metafonia. Ok, Anna, allora, voi siete legate, siete insieme e lei ci sarà sempre per te. Ogni volta che tu chiami, lei arriverà. Mi chiede di dirti di proseguire la tua vita, di prenderti delle vacanze, un periodo di vacanza per riposarti, per stare bene e per trovare anche un po' di serenità. Di serenità, ecco, il messaggio che vuole portarti è proprio quello di uscire un attimo fuori, di liberarti di tanti pensieri e di andare in vacanza. Ecco, goditi queste vacanze. Allora, io ho capito che lei c'è sempre, sì. Lei c'è sempre, ecco, è arrivata anche oggi. Lei c'è sempre per te. Quindi, tanto amore da parte di tua figlia, una ragazza veramente la sento dolce, in gamba, prepositiva, è molto risolutiva, molto intraprendente. Sta bene, ecco, vuole farti sapere che lei sta bene, ma tu questo lo sei già. Quindi, vi rincontrerete un giorno molto lontano, per il momento questo sarà il vostro rapporto. Va bene? Sì, sto per andare un po' via da sola, per ritrovarmi. Brava Anna, brava. Ok, lei starà con te anche nella tua solitudine, comunque. Va bene? Quindi, un abbraccio forte, forte dalla tua piccola stella. Va bene? Ok? Tanto amore da parte sua. E sono felice che è venuta per te, Anna. Io vedo che tu segui sempre queste dirette di tutti noi operatori, noi medium, e quindi è giusto, come si dice, che l'universo ti abbia esaudito il vostro desiderio, quello di tua figlia e quello tuo. Va bene? Ok. Ok. Voleva dire, vai mamma, io sono con te. Sì, sì, è un po' questo, esattamente questo. Loro continuano a comunicare. Quello che io cerco di dire a tutti quanti voi, anche a noi, è che il mondo spirituale c'è, ci ascolta. E loro si mettono sempre a disposizione per poter portare la loro parola, la loro voce, magari anche la loro energia. Allora, andiamo avanti. Vediamo adesso chi arriva. Non chiedo mai nello specifico, ma chiedo per qualcuno di voi che state seguendo la diretta. Va bene? Funziona così la medianità pubblica. Allora, andiamo avanti. Mandate il vostro intento e il vostro amore. Bene. Percepisco un'energia maschile. Sento che sto parlando con un signore che è trapassato intorno ai 70 anni. Sento un uomo d'affari, quindi un uomo d'affari, una persona che nella vita si è dato molto d'affari, ha costruito la sua azienda e ha portato tanti benefici alla famiglia grazie a questa azienda. Sento che lui è trapassato in maniera molto veloce. Mi fa sentire un cerchio alla testa, quindi potrebbe essere un ictus o qualcosa legato comunque alla testa, o un'emoragia celebrale, un problema alla testa che è praticamente trapassato subito, ok? Quindi nel momento stesso in cui si è manifestata questo ictus o questa emoragia, lui non ha avuto molto tempo, è trapassato praticamente dopo poche ore. Sento l'energia di un papà, ok? Perché lui mi dice che io sono qui per mia figlia. Sento, mi fa sentire, cioè gli sto chiedendo da quanto tempo è trapassato. Io credo che lui sia nel mondo spirituale da un non tantissimo tempo, direi intorno ai 5 anni, ok? Intorno ai 5 anni più o meno. Sento che nella sua famiglia due figlie femmine, credo anche un maschio o un nipote che è arrivato da poco e quindi lo sento energeticamente curioso, oppure un figlio maschio, ok? Però sento una famiglia con due figlie femmine. Queste due figlie femmine le sento molto vicine a lui e le sento anche molto vicino di età. sento, allora, questa energia molto forte. Allora, ho detto un papà, però potrebbe anche essere un nonno, ok? Potrebbe essere un nonno perché i papà sono un po' autorevoli, autoritari. Lui ha un'energia più delicata, più gentile e più di apertura. Quindi era un papà o un nonno con queste caratteristiche. Era molto gentile e molto attento alle necessità della famiglia, dei figli, ok? Lui lo sento, lui mi dice io non avevo difetti, quindi una persona anche con un carattere abbastanza particolare, lui si elogiava molto, ma non con arroganza, però lui era sicuro di se stesso e diceva Io so fare tutto, io riesco, qualsiasi cosa mi dite, io riesco a fare. L'unico difetto che lui chiama difetto, che si rende conto, è quello del fumare, perché mi fa sentire l'odore della sigaretta, del fumo. Potrebbe essere anche un sigaro, però mi fa sentire l'odore del fumo come vizio, come dipendenza, ok? E quindi questa è un'altra evidenza, che lui dice questa era l'unica cosa, diciamo, su cui ho sbagliato. Allora, andiamo avanti, vediamo, adesso vedo tra di voi se c'è qualcuno che può aver riconosciuto questo signore così particolare. Allora, Giulia dice mio papà, è Elena il mio, è Bianca, è Elena, ok Giulia e Elena siete parenti, vedo lo stesso cognome, ok? Ok, Bianca, mio nonno, due figlie femmine e un nipote. Ho avuto un ictus, aveva un'azienda con me. Siamo noi, abbiamo un fratello, ok? Allora, vediamo. Allora, no, mio nonno odiava il fumo, ok? Sì, sorelle, ok, per capire. Era gentilissimo e aperto, dice Giulia. Allora, siete tutte e due qui presenti? Ok, ecco perché sentivo così, le due le sentivo così vicine, perché siete tutte e due qui per la diretta. Allora, Elena e Giulia, parlo con entrambe. Avete riconosciuto tutte le evidenze di questo signore, anche se sento che lui mi sorride tantissimo, quindi credo che sia proprio il vostro papà. Allora, sì, tuo papà però aveva smesso di fumare, sì, era l'unico suo neo, diciamo, su quello dove era stato un po' criticato. L'unico vizio, lui dice, è una grande persona, lui ha sempre poi sistemato tutto, anche il vizio del fumo. Però quello era l'unico neo, ecco, diciamo che era quello, è morto da poco e non da cinque anni. Ok, ascolta Giulia, poi Giulia, Elena, puoi riconoscere, lui mi parla di, allora sento che sto parlando, sto parlando con il vostro papà perché lui mi sorride, perché mi vuole dare il messaggio. Ok, lui, sento che ha avuto un problema alla testa, ok? Tu mi scrivi, covid, molto velocemente. Allora, io voglio essere certa, anche se, torno a ripetere, lui ride e vuole portarmi il messaggio. E' importante per me sapere se ha avuto un problema alla testa perché la causa della morte è stata una morte veloce, ok, velocissima, ma con una pressione alla testa. Tu puoi capire, potete capire questo? Perché, allora faccio un repilogo, io ho qui un, sento un papà, un papà, quindi il rapporto paterno, ok, paterno. Sento che lui è trapassato intorno ai 72 anni, non è molto che sta nel mondo spirituale, massimo 5 anni, non è tantissimo. Sento che lui è trapassato di colpo, molto velocemente, con un problema alla testa, una pressione alla testa. Potrebbe essere un ictus o potrebbe essere una emoragia. Sento un'emoragia, sento un imprenditore, sento un imprenditore, quindi realizzato a livello professionale. Sento che il messaggio che vuole portare è legato proprio all'azienda, ok, quello che ha lasciato per i suoi figli. Sento papà di due femmine e un maschio, ok, quindi ci sono tre figli nella sua vita. Mi fa sentire l'odore del fumo, quindi è stato un fumatore e adesso vado avanti un po' di più con le evidenze. Lui mi vuole parlare anche di un piccolo problemino che c'è adesso con il figlio maschio. Quindi, tanto il mio papà non verrà mai, sono troppo arrabbiata con lui. Allora, loro non sono arrabbiati, tu sei arrabbiata, loro no, ok. Allora, per favore, sono con Elena, con Graziella, Stefania non so se tu puoi riconoscere le evidenze, però vi chiedo soltanto di rispondere se riconoscete tutte le evidenze che ho appena riportato, ok. No, nessun problema, la testa era intubato e aveva polmonite, ok Giulia, ok Giulia, perché io sento una pressione alla testa, ok. Una pressione alla testa, quindi qualcosa che era legato alla testa, la causa della morte era la testa. Allora, Graziella, tu puoi riconoscere tutte le evidenze, come si è presentato questo signore, quindi la famiglia, anche come era composta, da quanto tempo è trapassata, perché è importante, ok. No, siamo due, io e mio fratello, ok. No, io sento due figlie, sento due figlie femmine, perché è proprio la coppia, loro sono più vicine e poi c'è un figlio più piccolo, o un fratello, non so se più piccolo o più grande, però c'era un fratello anche, ok. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, allora, sento quindi questa impresa importante di famiglia, lo sento, sento che è di origine meridionale, ok, di origine meridionale, poi sento un trasferimento, lui mi fa vedere che le sue origini però sono dal meridione, poi si è spostato, si è spostato, però la sua terra, diciamo, di origine, le sue radici sono nel meridione. Non era un imprenditore, ma una sorellina mai nata? No, no, nella famiglia io sono certa che ci sono importantissimo, le due figlie femmine e un maschio fanno parte proprio delle prime evidenze che ha portato, e mi fa sentire questa grande pressione alla testa, quindi quando è morto lui aveva un grande peso alla testa, una grande pressione alla testa, ok? Allora, la cosa che mi rimane, Giulia, sai, perché lui, quando guardo i vostri nomi, lui mi sorride e per me questo è un segnale, ok? Devo cercare di capire che cos'è tra le evidenze e che non ti è tornato. Allora, aveva il casco dell'ossigeno in testa, e ok, potrebbe essere la pressione che io sento. Giulia, no, neanche il nostro, purtroppo era lombardo, ok. Allora, no, non credo, Giulia, perché è fatto bene, perché questa è l'ultima evidenza che lui mi ha portato, proprio quello del meridione, proprio per essere sicuro di essere riconosciuto dalla persona giusta, ok? E quindi adesso ho capito. Va bene, Giulia, il tuo papà ci sarà, c'è sicuramente il vostro papà, perché ci sono tutti. Allora, andiamo avanti. Stella, mio papà dal sud alla Svizzera, due figli e un maschio, trapassato 64 anni dal 2012, emoragia celebrale. Allora, non era un imprenditore molto gentile. No, allora Stella, anche qui non ci siamo, perché lui mi fa sentire che proprio lui ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro, quindi a questa azienda come imprenditore, quindi è un'altra tra le evidenze importanti che lui ha portato, questa. Quindi mi ha parlato dell'età del trapasso che è intorno ai 72 anni. Questo trapasso è avvenuto in una maniera, tra l'altro, veloce, ok, perché sento questo cerchio alla testa, che sembra quasi una pressione, una emoragia, un ictus. La famiglia, questi due figli femmine e un maschio. Quindi è proprio importante nelle evidenze che lui ha portato. Anche se poteva essere magari 64, 72, a volte noi facciamo confusione. Però il lavoro è importante perché ha proprio segnato la sua vita, anche il rapporto con la famiglia. Il fatto di lavorare tanto lo ha tenuto un po' lontano nella quotidianità e lui vuole parlare proprio di questo con la sua famiglia, con i suoi figli. Quindi aspetto un altro minuto se c'è qualcuno che può riconoscere questo signore. Come dicevo, arriva dal meridione e si trasferisce verso il nord Italia. Tra l'altro sento un nome, Franco o Francesco. Un nome, non so se è il suo nome o qualcuno della famiglia, però c'è questo nome anche che sento molto vicino a lui. Allora, mentre parlo con voi, io rimando in contatto con lui, sto cercando di farmi dare una spiegazione sulla malattia. Allora, questa pressione alla testa ci sta in realtà perché è come se fosse però nel suo corpo già una malattia diffusa che poi è arrivata alla testa. Certo, non è che mi aiuta tantissimo così, però ho cercato di farmi dare qualche indicazione di più sul momento del trapasso. Allora, Elena Papaldo, non so se mi fai questa domanda perché pensi che sia questo signore che è arrivato o se vuoi chiedere del tuo papà che però io non chiamo, ok? Arrivano da soli. Allora, cerchiamo un attimino, cerco di rimanere in contatto col signore. Il signore porta gli occhiali, gli ho chiesto di farsi vedere fisicamente, mi fa vedere gli occhiali, quindi un signore che portava gli occhiali. Grazie Katia per il riepilogo, così almeno possono tutti quanti riconoscere le evidenze e semmai andiamo avanti. Sento comunque che è un papà, sento l'energia di un papà qui, come se ci fossero delle figlie che possono riconoscere. Ok? Allora, aspetto un minutino e poi lo lascio andare. Magari se qualcuno poi può risentere la diretta, se può magari scrivere nel gruppo affinché io possa portare il messaggio di questo signore. Allora, lui amava molto mangiare la pasta, una cosa in più, diciamo era molto per la pasta. Allora, Stella, mio papà occhiali, quando eravamo piccoli lavorava molto in un ristorante e non lo vedevamo molto. Ok? Allora, Stella, tu puoi capire, lavorava in un ristorante, era un responsabile, perché lui mi fa sentire che nella sua vita l'impresa, il lavoro, lo hanno condizionato tantissimo. Ok? E tra l'altro sento anche un passare, diciamo, di mano questa azienda, questa attività. Ecco perché, perché mi fa sentire l'azienda come se fosse stata lasciata, ok? Che ha un proseguo, ok? Questa sua attività. Perché è proprio di questo che lui vuole parlare. Ok? Ok, era lo chef del ristorante, ok? Allora, Stella, in famiglia, c'è qualcuno di voi che ha preso, diciamo, che ha avuto, ha fatto la stessa strada, appassionata di ristorante, del chef, ok? Come, come tuo papà, perché lui vuole parlare proprio dell'attività, cioè del creare questa attività. Ecco perché è importante. Mio papà si chiama Francesco, ha due fratelli, un maschio e una femmina, ma non era un imprenditore. Ok, Rosy, a parte le origini meridionali, torna tutto con mio papà. Allora, Giulia, è perché tuo papà ride quando ci siede voi, io non voglio, però insisto per questo. Quindi anche tutte le evidenze che ho portato fino adesso tornano e lui mi sorride. Ascolta, Giulia, lui mi ha fatto sentire il meridione, ok? Lei mi ha fatto sentire il passaggio. Avanti, come se si fosse spostato e andato. Puoi capire se, puoi capire il meridione se era magari una terra che a tuo padre piaceva e che magari aveva nel pensiero di voler andare magari durante, diciamo, la pensione in quel posto? Magari al contrario? Allora, Giulia, io sono rimasta solo nell'attività e molto accosciata per questo. E infatti, Franco è un collega che mi sta dando una mano. Ok, allora, guarda, certo, amava il meridione. Ok, purtroppo quando facciamo le dirette che non sono di dimostrazione pubblica. Ah, ecco, è stato spesso il meridione per lavoro. Ok, allora posso capire perché lui mi faceva vedere il meridione, lo spostamento avanti e indietro, poi da lì tornava su. E quindi ecco perché. Allora, va bene. Ok? L'altra evidenza era la pressione alla testa che però ci sta con il casco che può... e voleva trasferirsi al sud. Ok, quindi qualcosa dove voleva mettere l'origine. Sì, Giulia e Elena, perché io, quando sono con voi, lui sorride tantissimo. e lo fanno soltanto quando riconoscono, quando si riconoscono i contatti. Allora, io sono con voi, scusate ma mentre parlavo con voi lui mi stava parlando. E' curioso, vostro papà è molto curioso nella modalità con cui mi comunica. Allora, ragazze, soprattutto il primo messaggio per... Allora, non so se Giulia o... Allora, io sono rimasta nell'attività. Ok, allora Giulia, soprattutto per te adesso questo messaggio. Tuo papà è quello, appunto, il primo messaggio era proprio riguardante questa attività, questo portare avanti. Allora, lui sa che tu ce la puoi fare. I tempi sono difficili, ma tu sei all'altezza di portare avanti l'azienda. Non sei sola. Puoi andare avanti tranquillamente ancora per un po' di mesi, ok? E poi magari scegli di prendere una decisione. Lui dice adesso aspetta, non mettere di fronte, non metterti di fronte a una scelta, ok? Ma aspetta un po' di mesi, aspetta che arrivi l'inverno. Poi magari puoi scegliere, perché lui lo sento molto fiducioso, sia nelle tue capacità, ma anche sia nel farmi vedere il filo energetico di questa azienda. Me lo fa vedere nel positivo, come se tutto poi si mettesse al posto giusto. E quindi di non perdere la fiducia nelle tue capacità. Se ci fosse stato lui, sarebbe stata la stessa situazione. Va bene, quindi Giulia non mollare, non mollare e sforzati e non mettere, non cercare di prendere una decisione adesso, ok? O di metterti nel dubbio di una scelta. Aspetta, aspetta e pianifica, e pianifica. Ce la puoi fare, non sei sola. E comunque lui ti sta dando il sostegno. Certo che lui non si aspettava, quindi anche, diciamo che un po' la situazione in cui ti trovi, è un po' anche quello che lui non ha organizzato, perché non pensava di dover morire. Quindi non aveva nemmeno sistemato tante piccole cose. E quindi di stare tranquilla, che il caos un po' lo ha creato anche lui. Lui vi vuole tanto bene. Vi sta molto vicino. Sa che lui per voi era un punto di riferimento. Sa che voi potevate contare su di lui. Però potete farlo anche adesso. Lui può continuare a sostenervi in una modalità diversa. Però cercherà di fare tutto il possibile affinché voi riusciate a vivere una vita serena, anche senza di lui. Lui non pensava di non potervi salutare. Ecco, lui il più grande dispiacere è quello di non aver potuto sentire la vostra voce, il contatto fisico nel momento del trapasso. E quindi ecco, lui è con voi. Vi chiede di stare vicino anche al suo figlio maschio, a vostro fratello. Perché mi fa sentire un po' di confusione a livello di relazioni personali. Ecco, quindi un sostegno proprio morale. Anche se lui è un fratello che adesso qui c'è un po' di privacy, però è rimasto sempre un po' fuori. Perché anche lui è un po' in questo momento non è proprio centratissimo. Ecco, mi fa vedere che si sta un po' perdendo. Spero che voi possiate capire questo messaggio su perché sta dicendo questa cosa. Allora, Elena aveva il covid e non ha visto il funerale. Ok, ok. Quindi un messaggio diciamo particolare anche a vostro fratello. Che lui è anche con lui. Va bene? Di farglielo sapere. Ah, vive lontano. Ok, allora ho capito perché. Vive lontano. Stategli vicino, magari questo periodo ha bisogno di una telefonata in più, di un contatto più stretto. Perché mi fa vedere che è un po' triste. Va bene? Un po' triste, un po' malinconico. C'è qualcosa a livello di relazione che non funziona. E poi mi vuole parlare del suo grande amore. Che è la vostra mamma. Questa donna a cui lui ha tenuto, ha amato veramente. Anche se non l'ha spesso dimostrato nelle parole. Ok, però dice che non ha mai fatto mancare nulla. E comunque l'ha fatta sempre, è sempre stata orgogliosa di lui la mamma. Ma anche lui è sempre stata orgogliosa di lei. Una signora che ha cresciuto con tanta fatica all'inizio la famiglia, i figli. Che ha saputo mantenere unita e non si è mai lamentata. E quindi lui vuole ringraziarla per questo. Per l'amore che ha dato a lui e per come ha cresciuto i figli. E l'unico rammarico è che forse gli doveva dire, forse non gliel'ha nemmeno mai detto, o comunque non in questa modalità, di amarla. Ecco, quei gesti che fanno gli innamorati nel dire ti amo. Ecco, magari con la mamma non lo ha affatto. Però vuole portare, vuole dirgli che l'ama forse anche più di prima. Ecco, se potete dirlo alla vostra mamma, che lei è nel suo cuore. Nel suo cuore, ma tutti voi siete nel suo cuore. E è orgoglioso di essere qui, di essere stato, di aver avuto la possibilità di parlare. Giulia, non so, mentre hai mandato questo messaggio, lui mi ha fatto, tipo, lei è un po' birbantella, deve abbassare i toni nelle relazioni. Sei un po' dura, forse, tu Giulia, a livello di relazione con il compagno, credo che stia parlando di un rapporto di coppia. Devi essere più tranquilla. Quindi, tanto amore da parte del vostro papà, va bene? E lui è sempre con voi. Mi raccomando, con l'azienda, non mollate perché non è il momento adesso di prendere delle decisioni. Va bene? Tanto amore, tanto amore da parte sua. Saluto questo signore che ha lottato fino alla fine per portare il suo messaggio. Ok. Allora, mi dispiace che questo messaggio è stato un po' lungo. Va bene? Di solito nella dimostrazione pubblica dobbiamo essere più veloci. Dobbiamo far soltanto riconoscere le evidenze in modo da poter fare più contatti possibili. Invece questo contatto è stato un po' lungo. Però va bene lo stesso, va bene così. Allora, io provo a fare un altro contatto, ma deve essere proprio veloce, 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 perché abbiamo soltanto pochissimi minuti e su questo canale non posso andare oltre per rispetto degli altri operatori che vengono dopo di me. Quindi vedo un attimo, sono i venti, vediamo se riusciamo. Chiedo di far arrivare qualcuno veloce che può essere riconosciuto immediatamente. Allora, ho qui un'energia maschile, sento che sto parlando con un signore che è trapassato intorno agli 80 anni. Ok, 80 anni? Allora, lui si fa vedere molto magrolino, molto magrolino, sì, molto esile, molto magrolino. Allora, non so perché, ma mi fa sentire subito l'odore della carne, ok? Quindi il cucinare la carne, qualcosa che ha a che fare con la carne, ha sempre maneggiato la carne. Sento che questo signore è trapassato da poco tempo che è nel mondo spirituale, da pochissimo tempo che è nel mondo spirituale. Sento, allora, le chiedo della sua famiglia. Allora, lui mi dice che quando è trapassato, dall'altra parte c'era già la moglie ad accoglierlo, che è morta molti anni prima di lui, ok? Quindi quando è arrivato il suo trapasso è stato di gioia, perché lui ha sentito, diciamo, si è rincontrato con sua moglie. Anche se poi questo rapporto, mi fa vedere, non è che era proprio idiliaco, però è rimasto felice di questo rapporto. E sento che lui, diciamo, una tribù di maschi, sento un DNA generazionale di maschi. Quindi, mi parla dei suoi figli, ma sento che in famiglia erano tutti maschi, tre o quattro maschi, comunque tutti maschi. E infatti lui cercava sempre di avere un buon rapporto con le nuore, ok? Con le nuore. Sento una vita, nell'ultimo periodo, diciamo, di solitudine. E' come se non avesse avuto una compagna, ok? L'ultimo periodo lo vedo vivere in casa da solo, vivere in casa da solo. E poi fumava, lui fumava tantissimo e non gliene importava niente. Nonostante, allora, nella malattia io credo che lui abbia avuto una... La sento diffusa, quindi posso pensare a un tumore, ok? E' un tumore, è un'energia maschile, scusate. Sì, un tumore che poi però non si è riuscito a contenere, come se avesse prodotto delle metastasi, anche problemi al respirare. Allora, vediamo se c'è qualcuno che può riconoscere questo signore. Allora, Maria, potrebbe essere papà di Marco. Vittoria e Pasqualino sono sicurissima. Sì, guarda è lui. Allora, Maria Stella, oddio che emozione! Come è arrivato in questa modalità? Allora, corrispondono tutti i figli maschi? Corrisponde malattia? L'età del trapasso? Mi dici se corrisponde tutto tutto quello che ha portato? Perché è importante questo e non abbiamo tantissimo tempo. Allora, vado avanti. Vado avanti. Allora, in realtà il messaggio, lui è qui per portare un messaggio non tanto ai figli quanto alle nuore. Quanto alle nuore. Il messaggio è quello di dirvi che voi siete delle... Allora, vediamo. Allora, Maria Stella, tu li hai scritto. Potrebbe essere papà di Marco. Ok, quindi nuora. Ok? Nuora. Allora, lui è qui per, innanzitutto per ringraziare le donne della famiglia. Le donne che sono state vicino ai suoi figli e che lui ha sentito molto vicino a... che ha sentito molto vicino a voi, ok? Che vuol dire che lui si è sentito amato anche da voi, mogli dei suoi figli. Anzi, forse anche più accudito rispetto ai figli stessi. Eh, quindi è qui per dirvi che vi vuole bene, vi ha voluto bene, vi ringrazia. E un abbraccio forte anche a questi nipoti. E poi mi dice che, ehm, questi nipoti, eh, che lui, anche se non ha visto, ma adesso vede con, ehm, vede con la divisa. Mi fa vedere una divisa. Tu puoi capire perché vedo una divisa e lui mi dice, lo sto vedendo con la divisa, ok? Ehm, ecco. Quindi lui con questo estusiasmo nel dire, io ho fatto tre, eh, tre figli maschi, ma sono rimasto legato anche alle nuore. Che mi hanno comunque consigliato, eh, in qualche modo curato, accompagnato. Ehm, e poi anche un messaggio a questi suoi figli che sono maschi e quindi bisogna capirli, perdonarli, pieni di difetti. Ehm, ecco, questo, questo Maria Stella è il messaggio da parte di Pasqualino per voi nuore e per voi della famiglia. Allora, il mio figlio Andrea è Carabiniere, ok, ok. Lui lo vede, allora vuole che tu dica a tuo figlio Andrea che lui lo vede, vestito con la divisa, va bene? Che lo vede, mi fa vedere questo, ecco, di dire che lo vede. Magari per tuo figlio è importante sapere questo. Ehm, grazie, grazie per tutto quello che avete fatto per lui. Quando è rimasto solo, senza, diciamo, moglie e senza anche i figli che ormai cresciuti sono andati via. Quindi un abbraccio grande da parte sua e vuole dirvi che lui sta bene, sta bene ed è felice in quella dimensione. Nonostante, eh, nonostante tutto lui era un po' pronto al trapasso, eh. Eh, sentiva che sarebbe trapassato, non era, non è stato sorpreso, sentiva che sarebbe arrivato, proprio lo sentiva che sarebbe trapassato proprio in quel momento, in quei pochi giorni, tra l'altro da pochissimo tempo. Va bene, era una persona straordinaria, sì, è molto, eh, per come lui si è presentato anche un po' forse troppo poco generoso, come se non avesse creato magari qualcosa da lasciare. Però sì, ehm, voleva raggiungere Rosa Maria. Può darsi, sì, può darsi che era stanco, perché lui mi fa sentire che è andato sereno dall'altra parte e contento di andarci. Ha pagato di tutto quello che la vita gli aveva dato, restituito anche. Ok? Allora, quindi fantastico. Allora, Maria, porta questo messaggio a tutti voi della famiglia da parte sua. Sta benissimo, va bene? Sta proprio bene, bene, bene. Allora, salutiamo Pasqualino. Grazie Pasqualino per essere arrivato qui in maniera molto veloce e diretta. Grazie, grazie. Tanto amore da parte sua. Ok, allora, sì, ha la sensazione di sentirlo perché le energie arrivano fino a noi, arrivano. Noi siamo collegati energeticamente tutti quanti e quindi, ehm, sì, ci sta che tu lo stai sentendo energeticamente. Accade anche questo durante i contatti medianici, sia nella medianità pubblica che quella, diciamo, in privato. Va bene? Sono contenta, Maria Stella, perché ha portato comunque un auguri a tutta la famiglia. Che lui sta bene? Dovete sapere che lui sta bene. Allora, io ringrazio il mondo spirituale perché loro sono sempre disponibili. Noi apriamo le porte e loro arrivano sempre, sempre, sempre da noi. Eh, e quindi ringraziamoli tutti, ringraziateli anche voi. E io ringrazio anche voi per essere qui. Vi auguro buone vacanze, eh, quindi di riposatevi, tornate cariche. E, ehm, vi voglio bene a tutti. Grazie, come sempre. Ciao. Io adesso vi saluto mentre passano questi minuti. Ciao Stefania. Ciao Agnese. Grazie. Grazie Agnese. Grazie Ella. Maria. Grazie anche a te. Grazie a tutti. Buona cena. Ciao. Grazie. 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 Grazie.